No, 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 da spiegare, da spiegare che non mettiamo giù la palla in controattacco, ciò che è il nostro problema è quello lì in questo momento, difendiamo tanto ma non riusciamo a buttare giù la palla, quindi dobbiamo continuare a lavorare e pensare già alla prossima parte. Domani, insomma domani torniamo in palestra e continuiamo a lavorare, ma andiamo giù a testa libera, sappiamo che sia una partita difficile, noi proviamo a fare il nostro gioco e siamo stati fuori. Sì, 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 si sta succedendo spesso, è una brutta cosa, dobbiamo lavorarci e speriamo insomma che le cose già da mercoledì vanno a meglio.